La seconda fase del progetto di promozione turistica Sisi Isili Partirà tutta la campagna promozionale e soprattutto partirà finalmente in maniera operativa la piattaforma per poter finalmente prenotare e quindi i turisti potranno collegarsi, rivolgersi alle agenzie di viaggio autorizzate o i tour operator e potranno finalmente prenotare le tre notte in Sicilia e averne una gratis insieme a tanti altri servizi Io non ho mai dimenticato di essere siciliana, questo per me è fondamentale perché senza le radici affondi, quindi essere siciliana è solo un orgoglio per tutti noi artisti che siamo purtroppo dovuti scappare, ma torniamo con grande emozione e piacere Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!